Abbiamo ricoperto tutto il territorio, abbiamo conosciuto tutti i pezzi del puzzle che vanno a comporre quella che è una grande organizzazione, una grande federazione che è quella della FIS, la Federazione Italiana Sport Equestre e adesso abbiamo il presidente Vittorio Orlando. Allora tiriamo le somme, si è respirato un'aria diversa in questo Piazza di Siena? Sì, molto, molto cambiamenti che peraltro sono realizzati 50 giorni, però il massimo l'abbiamo raggiunto oggi con tutti i posti preoccupati, non c'è più posto per gli spettatori. Senta, lei voleva respirare un'aria diversa, l'ha respirata Vittorio? Sì, si è visto quello che avevo in mente. Tra l'altro ho notato un'atmosfera serena e di grande coesione anche tra lei e i suoi tutti collaboratori. Sì, sì, perfetta, carmonia. È soddisfatto? Sì, molto. Anche dalla presenza di autorità importanti, da quale non c'era magari in precedenza comunicazione come il presidente del CONI. Ma poi è che bello che sono venuti un certo giorno, che oggi sono tornati. È vero, è uno spettacolo meraviglioso. Senta, abbiamo detto, abbiamo tolto la prova di potenza, però sei barriere straordinario. Sì, ovviamente nel rispetto dei cavalli. È una grandissima festa anche per il tricolore. Certamente, abbiamo vinto tutte e tre le gare. Quindi oggi, primi cinque posti. E adesso vediamo cosa succede con il Gran Premio. Va bene, grazie mille. Grazie, cavolo.